Il decreto porta alla firma l'assessore regionale ai beni culturali Carlo Vermiglio e sta suscitando molte polemiche. Al centro dello scontro è il consiglio di gestione dell'ente Parco della Valle dei Templi. Vermiglio ha nominato presidente l'ex commissario Bernardo Campo e dell'organismo fanno parte anche il sovrintendente di Agrigento Gabriella Costantino, un consulente nominato alla regione Sergio Alessandro e ancora nel consiglio sederanno il sindaco Lillo Finetto e l'attuale direttore del parco Giuseppe Parello. Ma questi ultimi due solo con potere consultivo e nessun diritto di voto. Proprio Firetto è il primo a protestare. Il governo regionale dopo aver privato il comune di Agrigento della sua parte degli introiti del parco archeologico della Valle dei Templi, come previsto dalle norme e dopo aver scippato risorse decisive alla comunità locale, nomina un consiglio di amministrazione distante dal territorio e mal assorbito anche sotto il profilo genarchico, senza alcuna connotazione scientifica o accademica, togliendo al sindaco di Agrigento il diritto di voto, di cui ha sempre goduto, dice Firetto. La nomina del CDA del parco, attesa da sette anni, si trasforma oggi in un nepalese attacco alla città. La legge regionale sulla composizione del parco è stata modificata lo scorso anno. Abbiamo rispettato la norma, dicono dall'assessorato, ma la polemica non si ferma. Legambiente è con Firetto, dice, condividiamo in pieno la presa di posizione nettamente critica, assunta dal sindaco di Agrigento in merito alla nomina, dopo sette anni, del nuovo consiglio di amministrazione del parco archeologico della Valle dei Templi. Nonostante l'abito giuridico sia formalmente diverso nella sostanza, il prodotto venuto fuori non cambia e sotto il vestito del nuovo organismo si confermano come predominanti sia la trama tutta politica di questo ultimo settennato che i giochi di potere messi in atto per tesserla.